abbiamo una chiamata di funzione vedete c'è questa void funs il cui prototipo viene indicato prima del main e quindi qui c'è la dichiarazione di funzione e poi dopo la fine del main c'è la definizione di funzione abbiamo che la funzione che si chiama funs non mi restituisce nulla quindi non avrà alla fine un return ma ha come parametri due parametri interi che sono int a e int b vedremo poi che cosa fa la funzione nel corso del programma all'interno della main sono state dichiarate x, y e t sono tre variabili intere dove t è posta fin dall'inizio uguale a 9 quindi inizializzata a 9 mentre x e y vengono dichiarate x e y vengono assegnate i valori durante il corso del programma quindi x viene posto uguale a 3 e y viene posto uguale a 2 poi che accade? c'è questa istruzione che vi ricorda una forma compatta per dire lo scriviamo qui t uguale a t più x quindi praticamente t diventerà pari a 12 poi c'è una chiamata di funzione la funzione non mi restituisce nulla quindi non ci sarà x uguale a qualcosa ma viene chiamata semplicemente la funzione io che cosa faccio quando viene chiamata la funzione? creo una tabella e qui scrivo prima chiamata perché poi vediamo che la funzione sarà chiamata più forte quindi mettiamo le variabili interne alla funzione che sono a e b non visibili dalla funzione principale dalla main ma che accade? che io scrivo funze di x e y che significa che x e y sono i parametri attuali che significa che io sto passando ad a e b i valori delle copie di x e y quindi i valori che hanno x e lo assegno ad a il valore che ha y e lo assegno a b in quel momento quindi sarà a uguale a 3 e b uguale a 2 l'unico legame tra a b e x e y è il fatto che ad a e a b assegno i valori di x e di y andiamo a vedere che cosa fa la funzione a uguale a meno b quindi qui dentro c'è a uguale a 1 b meno meno quindi b viene decrementato e diventa 1 e a uguale a meno b quindi a uguale a 0 queste variazioni di variabili non influenzeranno i valori delle variabili in x e in y le variabili a e b saranno modificate localmente nel momento in cui termina la funzione e il programma viene ritorna alla main quindi ritorniamo al programma principale a e b vengono non esistono più quindi la memoria temporaneamente assegnata da a e b viene rilasciata quindi cambiamo abbiamo di nuovo una variazione di t ma x e y non sono cambiate quindi t uguale a t più 3 per x quindi quanto sarà t? sarà x uguale a 3 3 per 3 è 9 quindi t diventerà 21 ancora abbiamo un'altra chiamata di funzione richiamiamo la funzione richiiamo si assegneranno ad a e b nuovi spazi in memoria quindi qui scrivo seconda chiamata e non so se si capisce molto bene mettiamo seconda chiamata di funzione e che succede? che a di nuovo avrà valore 3 b di nuovo avrà valore 2 perché x e y nel corso del programma comunque non sono state modificate vediamo che cosa fa la funzione fa la stessa cosa che abbiamo visto prima quindi a uguale a meno b quindi a diventa 1 b meno meno quindi b sarà decrementata con un operatore di decremento post decremento ma qui essendo un'istruzione singola sarebbe stato diverso se noi avessimo messo meno meno b dal punto di vista diciamo ai fini del valore di b e del programma sarebbe stato lo stesso a uguale a meno b e quindi a diventa 0 finisce la funzione si ritorna al programma principale a e b non esistono più esistono solamente all'interno della funzione vi è di nuovo modificato t t uguale a t quindi 21 più 4 per x allora x è 3 3 per 4 è 12 più 21 scriviamo 33 t uguale a 33 che cosa mi stampa questo programma? poi faremo delle considerazioni quindi questo programma mi stampa scriviamolo t uguale a 33 quali sono le considerazioni che facciamo e che dobbiamo fare? le considerazioni che dobbiamo fare è che allora questa funzione praticamente non fa nulla ai fini del programma ma mi serve per farvi capire che nel momento in cui i parametri non vengono passati come copia quindi vengono passati per valore le modifiche all'interno della funzione non saranno modifiche delle variabili all'interno del programma non c'è nessun legame tra x e y quindi a questo mi serve a un primo programma per farvi capire come funziona il passaggio per valore dei parametri poi ovviamente andrò a vedere programmi più complicati in cui invece il passaggio sarà per riferimento non più per valore quindi nel passaggio per riferimento invece ci saranno non si creeranno delle copie dei parametri attuali ma si creerà proprio un legame tra il parametro formale e il parametro attuale